Musica 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 Ok ciao a tutti ragazzi e benvenuti per questo nuovo game Allora, dunque, l'ultima volta abbiamo capito che dobbiamo scegliere se andare su o giù. E io direi su, perché c'ho paura. Eh eh, ok. Mio Dio. Ma che... No! Che ci fate voi qui? Che ci fate voi qui? Maledetti a voi dove state? Bastardi. Dov'è l'altro? Oh! Maledetto figlio di... Ah! Ok. Bene. Molto bene. Non è stata un'idea saggia. Per niente. Oh, e questa porta a blow? L'ultima volta c'è stato un... Uno spavento eclatante nelle porte blu. Generatore. Che diavolo ha aperto? Comunque. Maledetti al... Asticosi. Ok. Eh... Allora, forse dovevo per forza andare qua. E... Che cosa abbiamo qui? Uh! Perché non le ho trovate prima? Da notare come... La pistola abbia sette colpi e io sto andando avanti col fucilazzo. Così, come... Alla fiducia proprio. No! Anche qua sotto? Ma fate schifo! C'è qualcosa almeno. Sei il cavolo. Eh no! Quelli senza testa, no! Sono inquietanti anche più degli altri. Che poi ci mettono un po' per finire di fare questi versi, eh. Oh! Salve! Ehm... Wow! Uh! Ah! Ah! Che cazzo! Da dove cazzo è uscito? Ah! Ah, sto sanguinando. Ah, mio Dio, sto sanguinando. Credo. Porca puttana, da dove cazzo è uscito? Vieni qua, maledetto! Bastardo! In quella faccia deformata che c'hai! Ah, non riesce a passare nelle porte, vero? Maledetto! Quanti altri ce ne sono? Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! No, no, no! Non dirmi che riesce a entrare! Non riesce a entrare, vero? Ok. Sembra libero. Oh! Ah, ho sbloccato quella porta. Ok. Di qua che cosa abbiamo? Non ce ne sono altri, vero? Vero. Uh, lì c'è qualcosa. Sembrano proiettili. E quindi devo per forza. E vaffanculo. Fatemi andare. Ok. Oh, non riuscite a salire, vero? Vero. Ah, ho di nuovo dei proiettili. Ma... Perché sono invulnerabili, tipo? Vabbè, sapete che vi dico? Fottetevi! Alla grande, proprio. Uh, pillole! Ho bisogno di quelle pillole. Ma mi devo sbarazzare prima di questi cosi. Madonna! È lentissimo! Che cazzo sta succedendo? Dai, riprenditi, gioco. Riprenditi. Ok. Ci sono altre cose? No, ci sono solo quelle pillole. Ok, tu stati lì, mi raccomando. E via! Verso paesi lontani. Ora vieni con me Verso un mondo di merda Io lo so che qualcosa sta per uscire da lì Il mondo è... Ah, mi sono sbagliato? Ah! Bastardi! Immaginavo. Il mondo è di merda. Con quelle merda puoi giocare Nessuno ti dirà Che non si fa Basta di sti cosi merda son Ma basta! Basta! E basta. Poi... Uh! No! No! Bastardo! Eh, maffanculo! Non spingermi! Che cazzo! Da dove è uscito poi? Com'è che non m'ha visto prima? Com'è che... Affanculo sto gioco Io quanto l'odio! Non si fa così però, eh? Proprio non si fa Qua non c'è più niente Chissà se esce di nuovo la mano No Va bene Ok Allora Sono sicuro di dover ritornare di là Vediamo di non... No, il framerate No! 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 Vai a cacare Stronto! Non voglio parlare con te Hai capito? Mi sono offeso C'è qualcosa in questi angoli? No Ok Quello sta lì Buono, buono Ehi là Oh no Uno di quelli che sputa No Uno di quelli che sputa Che palle Non c'è niente di qua Pare di no Ok La mia unica opzione è andare... Oh che palle però sto fra i meriti di merda, eh? Mo' inizio veramente, veramente ad angosciare E là Sembra che tu non riesca a prendermi da qua Ma io riesco a prendere te E ho speccato tutti i miei proiettili Bastardo Non ce ne sono altri, vero? Ehi là There's someone in the subway Building a strange machine Never really seen him But I think he works all day Oh che bello Non devo usare la mia torcia qua Che cazzo è sto suono? I miei passi hanno cambiato del tutto suono Non ci sono mostri qua, vero? Oh sì, altre pillole Ho il terribile dubbio Che dagli scatoloni Possano uscire anche quei corsi a forma di mano Non mi servono più pillole Proiettili, gente Proiettili Datemi tutti i vostri proiettili Da Evidentemente volevo troppo Ma vabbè, almeno Ho avuto 15 proiettili di pistola Voglio dire Alla fine non sono neanche tanti quanti potrebbero starcene però Vabbè Ma soprattutto Vediamo All'ultimo piano Arg It's locked Arg, arg, arg Va bene Io sono venuto da qua No, sono venuto da su Va bene Ragazzi, scusate se ogni tanto Boh Sembra che il gioco si rallenti da solo ogni tanto però Questo è quanto Non so come dirvelo Soprattutto non so perché Uh, ah Uh Che cosa Ok, mi ricordo Mi ricordo che la V Ok Ok Questo era inaspettato Era piuttosto inaspettato, devo ammettere Ah Framerate Eh, aspetta, ma vi li posso andare? Ah Ah, bloccata dall'altro lato Quindi devo trovare il modo di sbloccarla dall'altro lato Mi sembra giusto Uh Che cazzo è stato? Ah Ho cap- Ho capito Ho capito Il Quel coso che esce da là è tipo Bruciante Scotta Quindi non posso passarci Va bene Avete chiarito il concetto Uh, ah Maledetto 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 E maledetto Bastardo Cosa c'è qua? Un martello? Oh no Devo lasciare il mio coltello? Vabbè Non sarà poi una grave perdita, no? Il martello fa più danni, tecnicamente Oh, salve No, madonna Giustamente Il framerate Quando deve stare Quando io faccio qualcosa di un po' più concitato Vieni qua Vieni qua Maledetto Finocchio di merda Vieni qua Vieni qua Mi piace come questo Praticamente non abbia bisogno di respirare Vabbè Tra mezz'ora più o meno Riusciremo a tornare Ok Forse ce l'abbiamo fatto Va bene Va benissimo Allora amico Vediamo se riesco ad arrivare E darti il colpo E che cazzo Avete rotto i coglioni Datemi il tempo di parlare Almeno Vaffanculo Sto martello fa cacare Un martello di merda Altra ok Ci siamo? Ci siamo Non ci siamo per niente Non l'ho azzeccata neanche Per sbaglio Allora Adesso posso passare Di qua E là Dove stai andando? Dove vai? Vediamo se Si rimette a posto Ok grazie Bene Non so che cosa sia questa roba Ma non Non ha un bel aspetto Il detonatore È al terzo piano Grazie No No Stammi lontano No Muori Sto martello Non vale un cazzo Non vale un cazzo Martello di merda E vabbè Però che cazzo Una partita giocata così Ah grazie Pillole No 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 Speravi che ti prendessi col martello Eh E invece no Ti è andata male Amico Ti è andata molto male Mentre a me è andata di lusso Forse Qualche cosa abbiamo Nulla E non sta arrivando nessuno Il che è un bene Dove caspita Dovrei andare Il detonatore Il detonatore Al terzo piano Ah Forse devo tornare indietro E con quel bottone Avrò Aperto il terzo piano Sicuramente È di qua che devo andare No Ok Vediamo di Ma che falle Perché va lento Perché Eppure io non c'ho niente Aperto L'altra partita È andata bene Oh Ok Ok Salve Allora Il fatto che ci sia la presenza di mostri Adesso mi fa capire Che sto andando dalla parte giusta Quindi Terzo piano Se questo è il primo Questo è il secondo Il terzo Oh sì Il terzo è aperto Adesso Il che mi fa riflettere C'è nessuno? No Buongiorno Uh Interessante 25 colpi 25 colpi Ehi là Vuoi testare la mia arma nuova amico? Dai Vieni qua Vieni qua Di ciao il mio amico Ah Spara Questa 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 Uzi O come la vogliamo chiamare Dovrebbe avere la potenza di Di una pistola normale Allora Questo è bloccato dall'altro lato Quindi è facile capire Che devo Portare Questo qua Un altro po' più Qui Perfetto Perfetto No Ok Almeno rompe le cose al primo colpo Sto martello di me Ok Allora Cosa abbiamo qui in questi Scatoloni Oh sì Mmm Scatoloni Datemi tutti i vostri periettili Tutti i periettili No un pillo L'ha detto periettili Grazie No eh Vaffanculo Ci si mette pure il mouse Ok Allora Per andare di là Ecco Dai 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 Qualcosa Andiamo Pillole Mmm Poteva andarmi meglio Con i proiettili Sinceramente Comunque Il detonatore L'ho visto là sopra Perciò Perciò Ok Ok Ehm Devo fare questo salto E hop Oh sì Oh sì Oh sì Oh sì Non sono mai riuscito a fare un platform in questo In questa mod come si deve E adesso E adesso E adesso finalmente Dite ciao al mio amico Boomete Ok Sono sicurissimo che Possiamo appianare le cose ragazzi Chiunque voi siate No eh C'è nessuno qua dietro Che mi aspetta No Non sono sicuro però di voler Lasciare il mio fucile qua Cioè voglio dire Cioè voglio dire Una potenza di fuoco superiore E credo di aver trovato molti più proiettili di questa Quindi Quindi boom Penso che Anzi Adesso andiamo a controllare il piano terra Ah no Allora no 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 Assolutamente rivolgo il mio fucile a pompa Ho sempre preferito il fucile a pompa A queste armi così Un po' per la potenza di fuoco Un po' per il fatto che i proiettili si trovano di più Che è una cosa che Ovviamente deve contare Perché è inutile poi Se io ho un'arma fighissima ma non trovo mai dei proiettili Un po' come questa qua Cioè ho Abbastanza proiettili in realtà Dovrei usarla più spesso Allora Un attimo che Frame rate torna normale Ok C'è nessuno Di qua So che c'è qualcuno Ah Non c'è nessuno Va bene dunque Allora Dov'era la parte esplosa? Di qua? Sì E beh E non è esploso Ah no Sì che è esploso Ok E che cosa c'è qua? Ah Ah Si è aperto un passaggio Ok bene Allora Devo anche capire come si faccia a nuotare in questo gioco E soprattutto quanta aria ho a disposizione O almeno quanta ne ha questo tizio Ok Allora 3 2 1 Via Dai 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 Ok Bene Dai 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 Ok 78 Dai 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 Affanculo Sto perdendo un sacco di Di ossigeno Cosa sono sti Cosa Cosa sono Ok Vediamo se ci sono altre pillole Uh batterie Buone Ok Allora Allora Dovrei andare di qua forse Non so che cosa siano quei filoni lunghissimi Ma non Non credo di volerlo scoprire Soprattutto Devo capire Come andare di là Questo Non mi piace Uh Ah Uh No No Ehi Non va bene così eh Non ci siamo capiti Inutile che mi agoli Oh Non puoi venire Perché ci sono le scale Vero Ma quanto Mi dispiace Ma qua Che cosa ha fatto Si è spaccato Le ginocchia Oh mio dio Ok Uh No No Tutto tranne voi E il frame rate Basso Tutto tranne queste due cose Non posso stare Wow E là E là No Che cazzo è Ah Che cazzo Che cazzo Che cazzo è sta cu No Da capo Che palle Fanculo Ok Ok bene Quei filamenti Lì Non sono buoni Per me Immagino Non lo siano Comunque Per nessuno Allora Prendiamo Sto schifo Ah Giusto Quello Non lo possiamo Prendere Dai Ok Va bene Allora Dai Prendiamo le batterie Ok Pezzi di merda Ok Allora Prego Venite qua Prego Signore Con la sedia a rotelle Venga ad espormi Il suo problema Vedremo di trovare Una soluzione pacifica E Uh Non puoi così pacifica Credo Venga più qua Venga un'altra Poi più qua Basta mi agolare Wow Ma che pezzo di merda Ma muori E' un po' stronzo Sto coso eh No No Perché mi ostino Usare il martello Che non vale un cazzo Ma prendili Ma uccidili Ma non vale un Cazzo Sto martello Di merda Eh 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 vabbè Ciao Sono morto Ma muori Non ce ne sono altri Eh vabbè Addio mondo crudele Ciao 14 Meno del meno Ditemi che ci sono Pillole Vi prego Vi prego Pillole Barili Bastardi Posso muovere i barili Posso davvero Ah barili Bastardi Barili Che cosa mi servono Magari c'è qualcosa qua Ok no Questi non riesco a muoverli E quindi Oh aspetta Ho capito E quindi posso Usarli per Dovrei Utilizzarli per andare Qua Giusto Ok una spinta Bella energica Mi raccomando E ho Ehi si Il cazzo Un po' più qua Barile E Vai No vabbè Poteva andare meglio Però Ho 14 Di vita Ragazzi Con 14 Non vado Da nessuna Parte Praticamente Eppure Devo farcela Prima o poi Troverò Un Delle pillole No No Andiamo Non abbiamo Tempo da perdere Fucking Bad Allora Andiamo Andiamo Uno Due E Tre Affanculo E tre Ah ottimo Ok Ok Basta così con la faccia Va bene? Ok no C'è un bibio Dai Salta Ok Ehi là C'è nessuno? Sembra di no Ma non mi fido Di lì potrebbe entrare qualcuno Da un momento all'altro E so che succederà adesso Meraviglioso Si è aperta una porta Chissà dove Davvero Fantastico Mi date delle pillole Gentilmente? No eh No eh Ottimo Ebbè Vedo qualcosa lì Forse mi possono servire Qui Nulla Pillole Datemi Come se non vi ho visto Là eh No Non ci provate Rimanete lì dove siete Belli Lì dove siete C'ho anche il framerate Che mi va basso Ottimo Adesso possiamo ragionare Di ciao Di ciao Amico Anche tu Ok Uff C'è qualcosa qua? Pillole? Pillole Cazzo Oh Ehi Però si trattano bene Qua eh Così si fa Baby Pillole Datemi Pillole Sono un drogato Che ha bisogno Chiuditi Gentilmente Ah Forse non devo andare Di là Va bene Capire dove si è aperta La porta Lo stai facendo Nel modo Sbagliato E Hope Ah forse è quella Andiamo a controllare Credo di sì Sì Può darsi Uh Ehi là Ehi là Perché non si apre? Perché non si apre? Oh mio Dio Oh mio Oh Questo non c'era Prima La porta è chiusa La La porta è No Che cos'è? Che sta succedendo? Oh mio Dio Chi dai? Lui muore? Stupido Stupido Lui muore Oppure Lui muore Stupido E oh Se uno nasce Stupido E' difficile Che muoia Intelligente Forse ho detto Una stranzata Quindi sono reso conto Solamente adesso Ok Ehi là Voglio delle pillole Grazie Perché non posso Aprire Ste cazzo Di porte Scusate No Finalmente Oh Oh no 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 Non mi piace Non mi piace Eh Giustamente Poi Non mi piace Per nulla Va bene Va bene E' il momento Di utilizzare Tutti i miei colpi Va bene Va bene Oh Oh no Ehi Ehi Di che stiamo parlando Che cosa sta succedendo Oh mio Dio Oh mio Dio Mio 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 Dio No Non avvicinatevi Sono 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 Senza Dei cazzo Di Oh mio Dio Sono Sono Senza Dei cazzo Di No 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 Da dove No 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 Allora No Bastardo Perché ho cambiato All'ultimo momento Sono un deficiente E non ho neanche vita Come si suppone Che io riesca A sopravvivere A sta Sta merda If Una cosa è ricorrente Questo if Resident Evil Cold Blood Bello Ma Veramente Non ci sono Non ci sono Pillole Da queste parti Cioè A uno Non gli viene in mente Che La persona Arriva a questo punto Della storia Praticamente Nella merda Vabbè Oh Salve Sono nella merda Ragazzi Sono A dir poco Nella merda Ehi la Anche dietro E vai Cioè Non c'è nulla di meglio Poi guarda C'ho nove Di vita Nove Avete visto? C'ho nove È mai possibile Che uno Sopravviva? Ehi la No 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 Dai Va bene Neanche così Allora La tattica è Andare Contro di loro Col Pistolone Maxi Figo Dai Morite tutti No Veloce 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 E dai No Bastardo L'ultimo L'ultimo Maffanculo Sto frame rate Del cazzo Che non mi fa fare nulla Andatevene a cacare Stronzi Cacate duro Fatevi male Ma vaffanculo Avete scassato il cazzo Avete scassato Con nove di vita Io vincerò Io vincerò Andate a cacare Vieni qua Vieni Dove scappi Dove scappate Nel pene Pezzi di merda Speravate voi Di Di farmi Cacare addosso Vero E ci siete riusciti Complimenti Salve Eh Può stare fermo un attimo Mentre la Uccido Ho speccato tre colpi Tipo Perché ho Quattro Su cinquante Passa Di Di frame rate E là Vieni qua Oh mio dio Quanti sono Super Mario Salve No 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 L'ultimo No eh E poi non sarà L'ultimo Io lo so Io ne sono certo Che non è l'ultimo Vaffanculo Vaffanculo Di qua non ce n'erano altri Oh sì che ce ne sono Addio Ok No 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 Vaffanculo Bastardi Non Non all'ultimo Non All'ultimo Oh ma Delle pillole Di merda No 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 Bastardi Pezzi di merda Ho sprecato Ho sprecato tipo Tutte Le mie Cazzo Di munizioni Di questa pistola E perché cosa Per nulla Neanche Una pillola Neanche una Datevene a fare In culo Stronzi Pezzi di merda Cosa mi manca Soprattutto Devo andarmene È arrivato il momento Oh grazie Guardate Siete stati Troppo gentili No Da qua sono arrivato Comunque Allora Acceso 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 Eh E quindi Cosa si suppone Che io debba fare Per andarmene Da questo Luogo Infernale Di perdizione Non vuole aprirsi Non vuole aprirsi Comunque assurdo Cioè Non sto trovando Più nessuna Cazzo di pillola E non penso Neanche che prima Sarei potuto uscire Di nuovo da qui Perché Perché se mi mettono Le Le serrande Lì All'uscita Ehi ma c'era Prima questa cosa Boh Io mi ricordo Di nuovo Adesso si è aperta Senza darmi nulla Grazie Vi sarò per sempre debitore Per questa cosa Ehi la Pillole Pillole Siete qui? Vi prego Pillole Vi supplico Pillole Pillole Ah sono in una stazione Ah sono in una stazione Tra l'altro Tra l'altro gli oggetti Non si spawnano Da capo Nooo Io t'ho visto solo adesso Ma mi fai schifo amico Ma se sei lì è per un motivo Giusto? No No Ok Perché stavi qua adesso? Per delle pillole? Vero? Dai Datemi le mie pillole Dove sono le mie pillole? Dove sono le mie pillole? Io voglio le mie pillole C'è un cazzo qua Oltre che Ehi no Qua ci sono dei perietti E dai C'erano anche delle pillole Qua in mezzo Che non riuscivo a vedere Ah che bello Ah che bello Ah che bello Ok ragazzi Direi che possiamo Terminare qui Ricordate di mettere mi piace Commentare E mettere nei preferiti Se volete Perché mi aiuta tanto Iscrivetevi se vi va E un ciao qui dal vostro Vale93bar Ciao